Amici 18, Alessandro Casillo e le sue parole su Instagram, difficoltà, bisogna rimboccarsi le maniche, il cantante ha avuto uno sfogo Il cantante Alessandro Casillo ha partecipato ai casting per la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ora il suo percorso va avanti anche se nei giorni scorsi ha perso la calma Attivo su social, il cantante aveva confidato ai suoi follower su Instagram, di fronte a un dubbio, a una difficoltà, a un intoppo, bisogna solo pensare bene e a testa bassa cercare la forza e rimboccarsi le maniche Lo sfogo di Alessandro Casillo, il cantante vuole lasciare? Senza alcun dubbio, Alessandro Casillo è uno dei favoriti per la vittoria finale, avendo peraltro dalla sua una notevole esperienza alle spalle, pur essendo un classe 1996 Infatti, il giovane ha partecipato sia nel 2010 che nel 2012 a Io Canto, facendosi notare sia come solista che con la boy band Nel 2012, invece, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2012 nella sezione Giovani Ha pubblicato due album di successo, È Vero e Cancelletto Ale, poi è sparito nel nulla. Di recente ha raccontato cosa gli era accaduto Nei giorni scorsi, Alessandro Casillo ha avuto un duro scontro con la sua squadra, in particolare con Giordana Angi, il capitano Mi sono rotto, basta, il suo sfogo finale, che ha fatto pensare a molti suoi fan l'intenzione del cantante di abbandonare anzitempo la sua squadra e il talent show Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like